bentornati su denot oggi voglio proporre un video per quanto riguarda l'unboxing e recensione per quanto riguarda il wide arf numero 457 rilasciato a ottobre 2020 dalla games workshop ecco che qui troviamo sull'immagine di copertina quella che la stessa immagine che possiamo trovare nel codex necron 2020 rilasciato proprio nel mese di ottobre assieme al codex space marine a questo riguardo e voglio ricordare che in descrizione potete trovare sia la playlist con l'analisi l'unboxing l'analisi delle regole del codex space marine che di quello dei necron quello dei necron tenete conto che troverete l'unboxing e nei prossimi giorni rilascerò anche tutte le analisi per quanto riguarda le regole proprio dei necron semplicemente devo fare una scelta quale far uscire prima ho perfetto far uscire prima quelli di space marine e a breve usciranno appunto anche quelli dei necron quindi eventualmente andate a vedere anche quella playlist perché nei prossimi giorni si adicherà man mano ecco che ora possiamo andare a vedere in dettaglio quali sono i contenuti all'interno di questo wide arf qui abbiamo il team del wide arf qui la cover alternativa del wide arf stesso che vedremo meglio comunque alla fine questo possiamo dare l'intruzione a quella che è una sottocampagna del paria nexus infatti abbiamo questa parte che sarà appunto per introdurre una sorta di mini campagna relativa con tutte le regole altro che durerà tre mesi e farà parte del sistema di paria nexus perché dice tre mesi perché alla fine dice fino a fine anno siamo troppo novembre dicembre per arrivare a fine anno per cui ecco che diventa molto interessante e secondo me già per l'idea che c'è come concetto varrebbe la pena prendere wide arf per chi è interessato alle campagne in generale perché è veramente molto ricca di regole molto ricca di background veramente molto interessante quindi merita non la vedrò tutta nel dettaglio perché effettivamente è tanto materiale di cui parlare cioè dovrei fare un video solo su quello però secondo me per chi è interessato è un qualcosa di estremamente utile poi abbiamo i contenuti vari che possiamo trovare nel wide arf e qui possiamo trovare la mailing list a parte dei lettori al team del wide arf stesso ecco che qui possiamo trovare questi che sono elementi scenici realizzati con i residui degli spru quello che rimane degli spru ecco che una ragazzina di 11 anni ha realizzato questo e qui mi è venuto in idea perché non fare una sorta di challenge e vedere cosa siamo in grado di fare con questa cosa quindi prendere quello che rimane degli spru e realizzare qualcosa di simile io uso gli spru anche per molti altri motivi diversi però credo che questo sia un modo per recuperare e mettere in produzione quello che è diciamo quello che sarebbe rimasuglio che magari ci intriga o mettiamo da parte perché ci potrà servire o altro successivamente che ne dite di fare una challenge e utilizzare instagram in questo caso che potete trovare anche in descrizione eventualmente il mio appunto instagram che però è chiocciola denomod ecco che si potrebbe fare di mandare le appunto idee e le cose con l'hashtag sketching building così da avere l'idea ovviamente mi taggate e possiamo realizzare tutto diciamo che secondo me ci potrebbe stare per trovare un modo per rivalitare quello che abbiamo da parte ed eventualmente avere anche nuovi elementi scenici e calcolando che a me non piace costruire elementi scenici è un'idea che è molto interessante inoltre va anche ricordato che potete usare questa immagine per avere ispirazione per esempio per modificare ad esempio qui la basetta alcune basi che possono essere interessate schemi di colore ci può essere molto da guardare per esempio questa base che è leggermente modificata rispetto a quella originale per farlo risaltare anche qui la base diversa lo schema di colore qui anche qui le basette guardate che sono diverse ma possono essere molto di interesse per avere un qualcosa che ispira anche qui possiamo vedere lo schema di colore le basette in questo modo ad esempio questa la basetta a me non piace lo schema di colore eccezionale però la basetta è un po troppo semplice non mi piace però sta a gusti magari a voi piace magari realizzate qualcosa di simile io preferisco qualcosa che sia un po più diciamo vivido dia un po più di vibrazione all'interno in questo caso la basetta non sia proprio in alcuni punti quasi piatta è anche vero che è l'immagine dovuta al bianco però con piccole modifiche piccole opzioni si possono creare delle caratteristiche veramente molto interessanti che possono essere di ispirazione a modelli o schemi di colore che si vuole recuperare quindi ve lo consiglio e poi abbiamo questa che è una fission per quanto riguarda la nuova categoria di warhammer horror che è da parte della black library e voglio anche ricordare e secondo me anche un po perché c'è questo tema che la black library sta facendo un concorso per farvi pubblicare delle storie le attivative proprio a warhammer horror quindi eventualmente andate sul loro sito per vedere se effettivamente magari vorreste partecipare e magari vi pubblicano qualcosa potrebbe essere qualcosa che magari vedrete sui propri sui prossimi webdorf secondo me è qualcosa di interessante in questo caso e poi possiamo trovare dopo questa questo che è un articolo da parte di jordan green riguardo al concept dietro a warhammer warhammer 40.000 warhammer fantasy e joe sigma e se volete un po vi dà anche suggerimento di come potreste scrivere magari storie di questo tipo perché vi dà quali sono i concept e l'ambientazione che andrete a scrivere quindi secondo me può essere molto interessante in questo senso e anche quelli immagini sono veramente eccezionali poi abbiamo questo perché passiamo a warhammer e joe sigma e in particolare andiamo a vedere il tomo celestiale con i troll in questo caso possiamo trovare i troll e voglio ricordare che grazie a una facca che è stata rilasciata finalmente questo tipo di regole qui è ufficiale quindi si può utilizzare perché c'è stato un problema qualche tempo fa riguardante questa regola ecco che ora sono ufficiali potete trovare qui tantissimo background veramente molto interessante che approfondisce l'argomento secondo me è qualcosa che potrebbe essere molto di ispirazione e poi oltre a approfondire il background abbiamo anche la parte in questo caso per quanto riguarda le regole quindi portarle sul campo di battaglia secondo me questo può essere qualcosa che è interessante per chi piace il troll e poi abbiamo se abbiamo visto prima il background poi la parte delle regole qua un suggerimento magari su come realizzare quindi in questo caso abbiamo un'armata showcase quindi una dimostrazione di un'armata qui possiamo usare magari per lo schermo in colore per le brosette magari non tantissimo ma gli elementi scenici potrebbe essere utile perché mostra diversi elementi scenici che potrebbe essere un suggerimento cosa portare magari successivamente per caratterizzare i propri pezzi e qui invece una parte per quanto riguarda come creare la propria armata le proprie unità le proprie regole per i punteggi questo è un articolo che riprende un articolo che è già stato fatto e se vi sembra che questa tabella sia familiare è per cui magari somiglia in parte a qualcosa che abbiamo visto nel genet ebook 2020 con la fornace della puteosi quindi come creare in questo caso il proprio personaggio qui abbiamo qualcosa un po più vasto quindi come creare e calcolare i punteggi dei vari modelli che andremo a includere unità personaggi o altro secondo me potrebbe essere molto interessante e poi qui abbiamo un'intervista al vincitore di due demo slayers ecco che in questo caso abbiamo quello che il modello vinto che ha vinto il premio nel 2010 e qui ovviamente quello che ha vinto nel 2019 perché quest'anno 2020 non c'è stato questo questo secondo me è molto interessante perché subito dopo vi fanno vedere come questo modello è stato realizzato ovvero questo questo possiamo vedere che quello che conta è che se andiamo a vedere si parte una base che è basica c'è questo è il modello base però dopo è stato modificato quello che sono i dettagli alcuni particolari alcune cose che l'hanno reso quello che è c'è portato ad essere questo modello e questo che secondo me è importante quando si parla di ispirazione e dopo ovviamente c'entra la pittura perché la pittura rifinisce il tutto poi passiamo a guardare per quanto riguarda vorrà mercantamila con queste immagini che è fenomenale mi piace tantissimo con quello che abbiamo accennato prima ovvero la campagna per quanto riguarda il flash point in questo caso l'alcone system ecco che qui abbiamo tanto tanto background da guardare quindi qui semplicemente è impossibile sintetizzare ma se vi piace questo genere di opzioni ve lo consiglio perché c'è veramente tanto materiale ed è solo una parte di quello che viene rilasciato perché ci saranno anche altri numeri con parti e se abbiamo visto il background ora passiamo alla parte delle regole qui per la parte delle regole magari voi può non contestare può essere la parte diciamo di giocarlo ma se vi interessa le campagne potrebbe essere un'ottima base su cui creare una campagna con un funzionamento simile quindi potrebbe essere qualcosa che può essere molto rilevante per il vostro gioco secondo me può essere molto utile e se prima abbiamo visto il background poi abbiamo visto le regole adesso guardiamo un po di narrativa quindi una storia legata proprio a questa campagna e può essere anche questa ispirazione per magari qualcosa volete fare e poi abbiamo la parte per quanto riguarda i monti della forge world nel senso dei mondi proprio forgia dove vengono fondate e qui serve per caratterizzare meglio quello che è l'ambientazione proprio miniature quindi come creare il tema magari le basette quello che è gli elementi scenici d'intorno andiamo a vedere questo qua questo modello che in realtà è il kurdos valentian che è il graven king che viene da ajossima ma è stato modificato per realizzare questo modello qui modello completamente diverso ma fantastico anche qui la basetta guardate che bella che è molto interessante anche qui una basetta eccezionale e qui possiamo dare come andare a personalizzare un modello di questo tipo che ho e vi porterò anche un video su alcune modifiche con mente a riguardo quindi potrebbe essere interessante poi possiamo dare questo che è un articolo realizzato da eliot armer per quanto riguarda possiamo dire il non rimanere focalizzati eccessivamente su un solo stile di gioco questo caso sono d'accordo diciamo che potreste concentravi non solo sulla narrativa non solo sul gioco bilanciato e anche se andate sul gioco bilanciato guardate da diverse prospettive gioco bilanciato magari cambiando le tematiche del tipo di gioco che realizzate con una certa armata secondo me è un qualcosa che espande molto gli orizzonti per come giocare quindi sono d'accordo questa è una splendida immagine veramente bella quindi eventualmente daccici un'occhiata perché potrebbe essere di vostra stessa ispirazione questo tipo di argomentazione poi qua possiamo guardare per quanto riguarda biscrivi in questo caso per il funzionamento del gioco come funziona altro non è un gioco che a me interessa molto però può essere molto interessante mi piace soprattutto la parte dell'immagine e soprattutto delle immagini delle carte qui una fiction che riguarda biscrivi ma è parte ai giossi che ma in generale quindi molto bella anche questo da leggere ve lo consiglio e poi abbiamo qui le tattiche per giocare appunto a biscrivi in questo caso ripeto è per chi interessa a me sinceramente gioco non è chi dispiace che non sono interessato a questo gioco tutto di però è un qualcosa che secondo me per chi apprezza può essere molto informativo io sinceramente mi limito ripeto a guardare le immagini a comprare i modelli perché mi piacciono quindi le modifiche altro per usarli perché sono belli semplicemente sono bellissimi modelli però diciamo che questo lascio il gioco a chi è interessato e poi abbiamo questo che può essere un articolo che potrebbe non interessare a molti subito perché fotografia a voi interessa magari dipingere giocare non vi interessa fotografare i vostri modelli ma guardate questa scena in realtà realizzare queste scene è qualcosa che può essere molto interessante perché se andiamo a vedere da cosa si parte e il risultato finale possiamo vedere che i nostri modelli possono essere molto valorizzati è veramente qualcosa di eccezionale una sorta di cinematica addirittura nei modelli con immagine simile secondo me in questo caso si può veramente ottenere molto quindi a vedere magari dei consigli o altro potrebbe essere molto utile io sinceramente leggerò questo articolo molto spesso perché anche qui se andiamo a vedere possiamo avere diversi guardate queste immagini sono veramente eccezionali con delle piccole modifiche della luce con un altro possiamo valorizzare veramente tanto anche qui andiamo a vedere queste immagini qui sembra veramente di avere diciamo abbiamo dei modelli reali in un tema fantastico eppure sembrano perfettamente integrati addirittura qua possiamo sembrare quasi un disegno e questo qua ok tecnicamente effettivamente pittura di una suonamiatura ma stiamo a vedere questo sembra quasi essere veramente un disegno su uno sfondo è molto bello in questo senso perché vi permette di valorizzare molto le vostre miniature le vostre armate e magari avere qualcosa che vi ispira a creare qualcosa in più magari a creare dei limiti scenici adeguati insomma è molto interessante poi alcuni avranno la mancanza ecco vede a tornare blackstone fortress con nuove regole per quanto riguarda blackstone fortress quindi non vi dovete preoccupare che sparisca ce n'è tanto ancora di questo materiale a quanto pare da parte della giù e poi abbiamo anche per quanto riguarda middle earth e persino delle anali sinceramente è un gioco che a me non piace molto però a livello di miniatura è veramente bello anche se lo userei più che altro per la questione di realizzare delle conversioni nel mio caso e poi qui abbiamo per quanto riguarda la campagna per necromunda quindi come realizzare una campagna come portarla avanti secondo me può essere molto interessante per chi ha intenzione proprio di giocare nel mio mondo può essere un qualcosa che vi può dare dei consigli abbastanza utili poi qui abbiamo un'altra parte della fiction per quanto riguarda fifa file che vi voglio ricordare è un libro intero che è stato diviso in più ed arf quindi è secondo me molto buono da leggere anche perché vi permette di avere un'idea di quella che è la qualità delle letture sul black library questo caso vi ricordo che ovviamente dipende dall'autore anche io i miei autori preferiti quelli che non mi piacciono anche all'interno della black library però avere un'idea di cosa troverete effettivamente vedendo la qualità che è proposta da black library secondo me è qualcosa che può essere molto interessante quindi in questo caso vi consiglierei di andarlo a leggere per avere un'idea possiamo vedere che proprio hanno capito all'interno veramente molto molto interessante e poi abbiamo qui la parte per quanto riguarda quello che troveremo nei prossimi mesi per quanto riguarda il webdarf da parte di volano studio poi qui possiamo vedere già l'antipazione cosa c'è al prossimo mese e qui possiamo vedere questa che è l'immagine alternativa per quanto riguarda il webdarf quindi quello sul numero speciale in sottoscrizione sinceramente preferisco un po di più l'immagine del webdarf però anche vero che ce l'ho già sul codex necron e quindi effettivamente questa immagine sarebbe un po' più caratteristica perché diciamo è unica però è veramente una bella immagine qui sta solo a scegliere e poi qui possiamo vedere proprio i tom keepers e questi se vi sembrano familiare perché li abbiamo visti nei webdarf precedenti con la realizzazione da parte del team dei webdarf su webdarf stesso di regole e background di ambientazione di schema di colore per quanto riguarda un'armata quindi potremmo dire che questo qua se volete praticamente la nascita con la realizzazione del tom celeste che dovrebbe uscire appunto un mese prossimo di un nuovo capitolo di space marine ed è stato creato da zero e abbiamo visto la nascita del capitolo veramente molto interessante in questo caso e secondo me potrebbe essere qualcosa che vi può anche spingere a farlo per voi stessi quindi che dire di questo webdarf penso che sia molto ricco perché abbiamo molto background molte idee per le modifiche abbiamo molti racconti che possono essere corrispettivo per quanto riguarda il background stesso quindi è veramente ricco oltre che le regole secondo me merita molto poi voglio anche ricordare di nuovo quello che è la mia idea di diciamo challenge quindi la mia idea per quanto riguarda realizzare qualcosa con gli sprue che sono rimasti o altro realizzare qualcosa di totalmente nuovo quindi in questo senso vi invito di nuovo per quanto riguarda la challenge lina la mia idea per quanto riguarda quello che è il risiduo degli sprue per creare qualcosa di nuovo con l'hashtag sketching building questo modo possiamo realizzare qualcosa potete taggarmi su instagram e poi magari lo condividiamo tutti e sempre vedere cosa siamo riusciti a realizzare secondo me può essere un'idea molto interessante poi veramente questo webdarf è ricco di idee di opzioni di dettagli veramente tante cose che secondo me valgono la pena ad ogni modo per questo video è tutto vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video oppure se siete interessati a semplicemente assegnarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati da Danimo è tutto alla prossima